ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su tomb raider nello scorso episodio abbiamo scoperto che se mi è stata rapita ovviamente c'è un rituale che vogliono compiere credo su di lei non ho detto ancora nulla per passarle i poteri diciamo posso saltarli così funziona ok quindi è un pochino cosa riusciamo a fare si può rompere questo si può aprire sono un bel po di materiali componente di fucilato automatico non sottratrovato ok quindi no devi prendermi l'arco spingere questo qua e poi in realtà non si riesca a baccare il punto giusto zac dovrebbe essere abbastanza semplice no qua ce lo faccio da più lontano più lontano vediamo se lo dobbiamo fare da questo lato magari conviene e allora si perfetto ha funzionato comunque stavamo dicendo che dobbiamo recuperare sem dobbiamo riunirci con gli altri mi sono un po' bloccato mentalmente facendo questo mini enigma e ora proseguiamo purtroppo il copilota ha fatto una bruttissima fine abbiamo scoperto che ci sono delle specie di guardiani che sembrano creature sovranaturali cosa non benissimo bellissima vediamo cosa ci riserva questo pezzo di gioco dobbiamo cercare di non non fare casino vediamo bene allora ma questo lo posso accendere no? eh ma chi ci ha pensato? ho pensato dopo non gli è ne fregato niente ok fermissimo con la testa perfetto sorpresa posso scendere? alla grande eh l'achievement sorpresa comunque riprendiamoci le frecce non male quello è caduto e credo sia morto un dubbio ho un dubbio che sia ancora vivo dopo averlo sparato in testa attenzione questi proviamo a prenderli ma molto probabilmente non li troveremo tutti quindi non ho salvato io si eh vogliono renderti la prossima imperatrice credo aiutami ti prego promesso 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 Sam ha detto che comunque se non sbaglio lei ha detto che avesse dei geni Sam aiutami lasciatela bastardi lasciatela eh vabbè muoviti invece di parlare tanto non la lasciano non è che ti ascoltano dobbiamo sbregarci eh però qua c'è una cassa qua c'è una cassa e vediamo se possiamo prenderla ok ah c'è anche un libro ora ho tutto ciò che potrei desiderare Oshii al suo servizio il sole godono del massimo prestigio nella corte reale lingue straniere etichetta storia arte della guerra mi istruiscono per diventare una sovrana e la regina è come una madre per me tenera premurosa amorevole quindi questa è quella che ha preso il il posto diciamo dell'imperatrice della regina forse tutte perché mi chiedo che cosa dovremmo temere non lo so io non lo so hopla va bene così ce la faccio sì da qua si scende ci sono dei ripari quindi molto probabilmente dovremmo combattere niente non preoccuparti che cosa no stia di fuori predatrice componente per fucile a pompa ma se io dovessi fare così giusto o per cosa succederebbe non benissimo ecco ce ne sono altri vero? eh sì bam benissimo ce ne sono altri vero? eh sì bam benissimo scaldiamo forza però questo si scalderà scalda la tua morte sei anche stupido sei ti avresti morto ti ho evitato una morte brutissima potete farciò? 29 col perk mi riforniscono abbastanza bene eh non sto usando l'istinto di sopravvivenza in effetti niente mi tocca attraversare mi tocca attraversare? ma come fai? è molto forte la corrente zitti vabbè ovviamente la nostra fortuna è sempre sul pezzo no oh merda ah perfetto quello magari ah pizzica quello non è in più oltre che è una madre di fuoco eh chi l'aveva visto comunque che ci fosse uno spuntone? non si vede niente ahhh dobbiamo fare morire ok ci siamo il tempo è da collare ahia far caduta eh dimmi che quello è un paracadute claraaaaa alla faccia bene dovrebbe esserci il paracadute di emergenza ok meno male aia vabbè dai è una punturina non è successo niente siamo un tattino eccessivo che altro aia Dove ho sbattuto? Che cazzo di sfiga Beh, nella sfortuna siamo stati fortunati Eh, ti fa male la ferita, è vero? Dove siamo finiti? Eh, non ce la fa più È stremata la nostra Lara Eh, siamo anche molto vicini Solo che non credo che sarà facile Trovo un kit di pronto soccorso Ferita aperte Aia Ma cosa ne sai? Magari non ho razziato tutto Ce la fai a saltare? Che male Non ce la fa Non sento niente Eh beh Non è neanche un bene per la tua ferita Potrebbe infettarsi, ecco C'è un cadavere Chi stanno torturando? Ok Non bene Non lo conosciamo Che palle Che palle Quella è una testa Anche quella Va bene lo stesso Facciamo attenzione però Un bel po' di componenti di creazione Appena trovo un falo Ci possiamo fare un pensierino Ah Ho le ferite ancora aperte Non posso arrampiccarmi Va bene Ho capito, ho capito Lara Ho capito Cosa farà male No Non pagherò proprio niente Roscio al massimo Siamo arrivati Però di qua non si può andare Ce la fai a tirare? Va bene Gerata Ed è pieno? Vabbè Sei stata molto fortunata Non ti do l'orifici Qua c'è? Cosa usa? Perdonami Cos'è un pronto soccorso? Cos'è? Accendino Nuova attrezzatura? E cosa te ne fai? Ti bruci la ferita? Che male Che male L'ho sentito a distanza A posto Lara Accendino a nastro Cosa faccio? Le frecce infuocate? MacGyver MacGyver Però la chiamavano Perci incendiari Ecco la modalità di fuoco Che potevamo cambiare Mi sento? Rotta Lara Stai bene? Ah Pensavo se fosse rotta Non si direbbe Sto bene Dove sei piccola? In una specie di paracopoli Vicino al palazzo Io sto ancora scendendo Come fai ad essere già lì? Eh Abbiamo volato Sei vicino a quel grosso cancello? Lo sto raggiungendo È la straniera Lì! Fuoco! Fuoco! Nooo Questo è un problema È il forestero Bam Fratello Stronzi Vogliamo raggiungermi Mori Pistola Aero Mi ha detto Un achievement Dovrei dirlo io Aiuto! 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 Ok Aiuto! Che fatica Questo è potenziato Potenziarei questo Ho paura Incrementare Danni inflitti Cozza Non possiamo farci nulla Precisione Danni inflitti Ok Abbiamo 257 Caricatore Maxi Perché no? Non la sto usando molto Quest'arma Preferisco molto L'arco Mi trovo abbastanza Bene usarlo Vediamo Cosa possiamo fare qua Qua sicuramente c'è Molta roba nascosta Ehi Lara Non credo neanche siano finiti I nemici Ok Altra gente Pesa E che palle Ma cosa è in trappola Ma cosa è in trappola E' a posto? Forse avrei dovuto fare Prima questo E vabbè Comunque c'è andata bene Lottiamo Ok Abbiamo usato un bel po' di munizioni Ok Abbiamo scoperto un'altra tomba Uhuh Questi sono componenti Un altro sacrificio Perchè si sono ridotti così Miglioramento disponibile sicuramente Fucile automatico Dove dobbiamo andare? Ok Vediamo se riusciamo a baccare un ingresso della tomba Ah ok Non riuscivo a capire Oh oh Tesoro di gps Ce ne sono 15 qua Che non troveremo mai Ma non sono un completista io quindi Non di questi giochi Tra altre cose come ori Che sono un po' più semplici Si può fare però Questi sono più Godiamoci l'avventura E vediamo come va C'è la pompa componente Pericoloso Pericoloso Pozzo Delle lacrime Ma cos'è una tannica tipo Fucile d'assalto Unificare ma da mettere a fucile d'assalto Così Alla faccia Contracolpo E basta Perché non avevamo altri materiali Vediamo se Ho capito Cosa bisogna fare A far scendere un po' quello Secondo me Secondo me Tre E quattro Una zavorra Basta 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 Grazie. 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 Un'cha'rriba. Hm. No, ovviamente. No. 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 Mmm. Eh, che son quattro? Se ne servono solo tanti. no lo sapremo mai cosa hai trovato lara cosa hai trovato tomba saccheggiata due livelli potenziarmi ricompense allora 43 45 cosa fanno questi interebbi chi più velocemente resiste le donne da caduta no potete fare le compense nascoste nell'ambiente circostante ma ci serve fisico che puoi trasportare quantità massime di munizioni elimina i nemici con stile per ottenere ricompense aggiuntive nella piccozza scalata per attaccare nemici con colpi micidiali e vabbè lo sappiamo già fare no ok spreco vabbè come si va via dove sono arrivato era buio non riuscivo a capire ok inga senso ah ok devo ancora abituarmi a questa cosa della scalata bene è andata benissimo è perfetto ragazzi noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio sempre qua sul mio canale ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace e noi come sempre ci vediamo al prossimo video sempre qui sul mio canale ciao a tutti 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 ciao a tutti